Ebbene, proprio in queste ore il cedimento dell'alta pressione darà seguito a una serie di perturbazioni che durante le festività natalizie, in maniera progressiva, bagneranno tutta la nostra regione, la prima delle quali è prevista proprio raggiungersi tra questa notte e le prime ore del Natale, bagnando in maniera più consistente il tratto appenninico emiliano, per poi progressivamente, in maniera scarsa e comunque sia debole, anche le nostre pianure. Ma attenzione, saremo costretti nuovamente a mettere mano all'ombrello quando una nuova perturbazione è prevista a raggiungersi nel pomeriggio di Santo Stefano, è un'ennesima ancora tra lunedì 27 e martedì 28 con piogge più consistenti e in maniera più omogenea sulle nostre pianure. Piogge che saranno seguite da correnti umide atlantiche che costringeranno ad alzare le temperature, soprattutto sul territorio romagnolo, raggiungendo i 13-14 gradi, mentre nei minimi si potranno attestare ancora tra i 3-4 gradi sulle pianure fino a 7-8 gradi lungo le coste. L'ultima di queste perturbazioni, questa fase di maltempo, che comunque chiuderà questa parentesi, è prevista dare seguito a un rialzo dell'alta pressione, proprio in corrispondenza degli ultimi giorni dell'anno e a cavallo del Capodanno. Quindi saranno giornate successivamente ancora asciutte, ma un pochettino più fredde. Ebbene, anche se non sarà un bianco Natale, il mio augurio è che lo possiate trascorrere serenamente con i vostri cari, ricordandovi però di seguire le nostre pagine social e di rimanere sintonizzati sui canali radio-televisivi di Icaro Communication. Da Roberto Nanni e da tutti noi, ancora tanti auguri di Buon Natale!